Ecco, 5 castelli imperdibili da scoprire durante un weekend in Emilia. Il castello di Torre Chiara, chiamato anche la Fortessa dal Cuore Affrescato, una delle rocche più scenografiche d'Italia in cui fu ambientato il celebre film Lady Hawk. Un elegante maniero quattrocentesco immerso nei vigneti, dove era chiusa la famosa Camera d'Oro. Il castello di Bardi, uno straordinario esempio di architettura medievale interamente edificato in pietra, che arroccato su una roccia di diaspro rosso domina la bellissima Valle del Ceno. La Rocca San Vitale, inserita all'interno del colorato borgo di Fontanellato, ancora oggi circondata da un meraviglioso fossato ad acquato. Di epoca medievale, racchiude tra le sue mure l'unica camera ottica funzionante d'Italia e il capolavoro del parmigianino. Il castello di Rocca Bianca, dimora dell'amor cortese tra Pier Maria II e Bianca Pellegrini, da cui la Rocca prende il nome. Qui stupiscono l'imponente Massio, la Sala dei Distillati e la Cetaia. Infine la Rocca Meli Lupi di Soragna, una splendida residenza a scrigno di tesori e opere d'arte, circondata da un bellissimo parco all'inglese in cui si trovano un romantico laghetto e l'isola dell'amore. Tagga un amico che ama i castelli e seguici per scoprire altri luoghi incredibili.